Allora salutiamo il Trentino, la Val di Sole, che bel posto, un bel applauso per questa zona straordinaria, ricca in tutti i sensi, ricca, ricca, maestro, ricca, quasi bello, passeggiate, colori, temperatura ideale, ogni tanto gli ho, vabbè, ma insomma, in montagna succede, mancano solo i cip e ciò, ma sono carini, i tredicoli, perché Paolo è sempre andato, ci ha, tu, come va, tutto bene, poi sta, ci insegne, ciao, come stai, Roberto, tutto a posto, perché parlano sempre così, mi sono aiuto a fare benzina, tutto bene, mi sono aiuto a cercare pure una torta di mille in due portabagaglie, perché sono carini, a Napoli quando mai, tu metti la benzina che facessi, a guarderlo, no, no, ci stanno tutti e quattro, non vi preoccupate, no, perché loro sono proprio carini, sono delle persone straordinarie, Paolo, no, sei andato, sei andato, sei un proprietario della Benga, l'accompagno io, non c'è problema, l'accompagno, dai, sta piovendo, l'accompagno io, ma ti faccio trovare il colto, la benzina, quando torni, no, ma sono sempre così, andato, sciato, accatarrato, sarà un po' nasale, a differenza del Calabrese, che è tutto aspirato, Calabrese, c'è questo contrasto, ma soprattutto fatemi salutare stasera i tifosi del Napoli, che seguono il Napoli dappertutto, e quindi non potevano mancare nella Valle del Sole, è vero Panico? Il Napoli dappertutto, e quindi non potevano mancare nella Valle del Sole, è vero Panico? Il Napoli dappertutto, è vero Panico? Il Napoli dappertutto, è vero Panico? Grazie Pino Grazie Grazie Grazie